Fra due o tre anni il Piemonte avrà sul suo territorio una nuova foresta lunga 200 chilometri e diffusa sul territorio di 53 comuni con oltre un milione e mezzo di piante, una per ogni abitante. La foresta condivisa del Po piemontese sarà la più lunga d'Italia e composta di piante autoctone. Il progetto avviato nei mesi scorsi dalla regione Piemonte con l'ente di gestione delle aree protette del Po piemontese si è ampliato fino a estendersi per una superficie di 500 ettari pari ad altrettanti campi da calcio. È stato presentato a Torino in concomitanza con la conferenza ONU sul clima in corso a Glasgow. Risponde a una delle priorità emerse dal vertice alla riforestazione per ricostruire un polmone naturale e contrastare l'inquinamento. Diamo la possibilità sia ai privati che agli enti di collaborare e contribuire sempre di più perché il Piemonte anche nel nome sia una zona ricca di verde. Ne abbiamo bisogno perché siamo anche una regione che ahimè è chiusa in mezzo alle Alpi e agli Appennini quindi abbiamo la problematica che nonostante ci sia una grande foresta in tutto il Piemonte abbiamo comunque un inquinamento importante. A oggi sono già stati coinvolti 33 comuni, un bell'inizio per realizzare una delle foreste più vaste d'Europa e possono partecipare tutti con 20 euro per piantare un albero. Lo strumento è il sito internet dell'ente ma a breve verrà aperto un conto bancario ad hoc. Ci sono anche associazioni cittadini singoli che contribuiscono al finanziamento di queste opere per cui non sono soltanto finanziamenti pubblici ma ci sono anche finanziamenti privati che consentono di portare avanti queste operazioni in tempi anche abbastanza rapidi. Il progetto non ha fine, la foresta continuerà a crescere su nuove aree che verranno acquisite lungo il fiume e destinate al verde mettendo in sicurezza il territorio e riqualificando il paesaggio.